Sono molto contenta e felice che qui a Palermo abbiamo visto come funziona bene la ricezione delle DAT, delle disposizioni anticipate sui trattamenti, quindi il prossimamente potrebbe essere anche messo sul sito del comune, ben visibile ai cittadini, il modo, il giorno, la data, come approcciarsi all'ufficio per poter consegnare il testamento biologico. Io credo che molti palermitani lo faranno e lo chiedo anche per tutti i comuni in Italia, anzitutto Roma Capitale, che si muova. Dobbiamo dare atto all'assessore Nicotri che il comune di Palermo, dove peraltro il servizio era già attivo dal 2015, fa la sua parte. Dobbiamo purtroppo anche constatare che il meccanismo si inceppa a livello regionale, dove non esiste ancora il fascicolo sanitario elettronico. Auspichiamo quindi che questo venga implementato prima possibile e aggiungo io quale rappresentante dei non credenti che l'amministrazione regionale non ceda le sempre possibili tentazioni clericali e non ponga ulteriori ostacoli a questa che è una conquista di civiltà per tutti. Per il testamento biologico bisogna telefonare allo Stato civile ai numeri 091-740-3754 signora Romano. Si prende l'appuntamento che i giorni di ricevimento sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e mezza. Tutte queste informazioni sul sito parzialmente ci sono, però al più presto saranno più definite e più dettagliate.